La Basilica di Sant'Anastasia ha ospitato un concerto dal cast eccezionale. Giovani promesse e professionisti affermati hanno affascinato una platea gremita. Vediamo. Un felice incontro fra generazioni. Questo è stato il concerto che ha unito nella cornice della Basilica di Sant'Anastasia la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona e le voci bianche della Live. Sul filo rosso della musica il concerto dell'Epifania ha riempito la pur ampia platea della Chiesa. Una ricetta già rodata con successo il 23 dicembre ai Santi Apostoli. Da una parte l'energia dei ragazzi cantori dell'Accademia Lirica, una quarantina di giovani promesse dalle piccole ugole della prima elementare alle fanciulle più grandi. Dall'altra l'esperienza della Big Band di Marco Pasetto, generosa e impeccabile nel ruolo di accompagnatrice di lusso. Brani impegnativi dagli spiritual tradizionali come Go Down Moses e Joy to the World a intermezzi divertenti in assolo e riarrangiamenti. I ragazzi, o sarebbe meglio dire i professionisti junior diretti da Paolo Facincani, mostrano la loro stoffa, persino quando vestono i panni di presentatore fra un brano e l'altro.